Appuntamento al foie del Teatro Maruccino per la conferenza stampa di presentazione dei circuiti d'Abruzzo. Evento riservato alle vetture e barchette storiche con partenza da Chieti che vede la riavocazione di tre circuiti abruzzesi. A partire dal 31 agosto prossimo, due Teramo e Pescara saranno organizzati dall'Old Motors Club di Pescara che è federato ASI. Il Gran Criterium Vetturette invece sarà curato dal Club Ruote Classiche Teatine che fa parte di ACI Storico, l'organizzatore Fabio Di Pasquale. Ci tengo quest'anno ad una nuova manifestazione da me ideata che sono i circuiti d'Abruzzo, che sarà un contenitore di tutti i circuiti più importanti avvenuti negli anni nelle città capoluogo della regione. Quindi partiremo nella mia città, nella città di Chieti, con il Gran Criterium Vetturette grazie all'ACI di Chieti e all'Associazione Ruote Classiche Teatine. Per passare poi il primo di settembre andremo a Teramo con il circuito città di Teramo e concluderemo la manifestazione con il circuito di Pescara, anche perché quest'altro anno ci sarà il centenario della prima Coppa Cerbo. Il 31 agosto partirà il Gran Criterium Vetturette, una gara storica avvenuta 70 anni fa e riproposta con Ruote Classiche Teatine l'anno scorso. Partirà il circuito dal Corso Marruccino subito dopo pranzo, quindi alle ore 15, per arrivare a uno dei borghi più autentici e antichi d'Italia che è Pretoro. Dopo Pretoro rientreremo a Chieti nel pomeriggio verso le 17 e alle 18, 18 e 30 comincerà la manifestazione, la gara nello stesso circuito dove si faceva 70 anni fa, che è il circuito della Villa Comunale. Chiaramente sarà una gara di regolarità con dei pre-sostasi, non sarà una gara di velocità ormai vietata nei giorni nostri. Insomma, Chieti si candida come punto di riferimento delle auto storiche il Vice Sindaco Paolo De Cesare. Assolutamente, lo abbiamo già certificato con il grandissimo riuscito evento dell'anno scorso, il Gran Criterium Vetturette, la riproposizione di questa pregevola iniziativa che ha una sua storicità, fatta con vetture venute da tutto il mondo, con ospiti di caratura internazionale. Ripeteremo anche quest'anno, già dalla conferenza stampa abbiamo un ospite d'eccezione che è Jarno Trulli, credo che sia una bellissima manifestazione. Come è anticipato l'ex pilota di Formula 1, Jarno Trulli, testimonial dell'evento. Ma io sono stato e lo sono ancora forse un emblema per l'Abruzzo e per l'automobilismo nel mondo, quindi esserci credo che sia importante.